Musica Se vuoi acquistare Fifa Points a pressi davvero davvero bassi Passa da Fifa Points Market, pagina italiana, sicura e rischio ban minimo E utilizzando il codice Lazza avrai 5% di sconto sull'acquisto Link in descrizione Wow ragazzi sono Harry Lazza e bentornati in questo nuovo giugno canale Oggi ragazzi siamo qui con il ventesimo episodio del Fifa Monopoli Anche nello scorso episodio ragazzi ho avuto un sostegno incredibile nel video Infatti abbiamo raggiunto più o meno 200 like, lo abbiamo anche superati credo Però ragazzi praticamente mi è riuscita la penitenza degli iscritti nello scorso episodio Me ne avete iscritte ma tutti hanno ricevuto stesso numero di like Ovvero 1 o 2 ora vado a controllare per sicurezza Però credo che sia giusto quello che ho appena detto Infatti ragazzi oggi che è venerdì Praticamente tutti la vita game che ha scritto Fai un video dove dice a tua mamma che ti hanno sospeso da 2 mi piace E anche Andrea Carrà che ha scritto come punizione devi andare per stare dicendo Mi punza del culo Praticamente ha ricevuto anche lui 2 mi piace Quindi non farà nessuna punitenza perché hanno lo stesso numero di mi piace Quindi ragazzi possiamo impiantamente cominciare l'episodio Arriviamo anche per questo a 200 mi piace E nulla andiamo dentro con la grafica Dunque ragazzi primo lancio di giornata vai colpo di testa numero 3 Numero 3 che è 1,2,3 pack speciali Cominciamo sempre così gli episodi non si sa mai perché Ci sono anche due man of the match quest'oggi che uno è Cerna Mentre l'altro è non mi ricordo più Vediamo se ci sono pacchetti speciali Sì ce ne sono due da 25.000 quindi Andiamo con il primo da 25.000 Speriamo 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 Che l'HZ ci porti qualcuno Il 16 carica in basso Dai l'HZ Dai 16 hai rotto il cazzo togliti 6.5 hours later Il pacchetto sta sbloccando Attenzione portiere Adrian Che non vale un cazzo Vai con il secondo pacchetto Primo non abbiamo trovato un bel niente Dai Antoine Griezmann Ti prego le petit diable Anzi le petit diable A parte quei due episodi di fila Non abbiamo trovato mai niente Nel FIFA Monopoly Nei pacchetti A parte De Gea E chi era l'altro Non mi ricordo più Vabbè comunque muovi Ti fammi trovare qualcuno Vediamo Terzino sinistro Gips Ma che merda Uh Coman anche Coman dovrebbe costare qualcosa Vediamo Coman 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 Comandante Vediamo Ok buono Buono Coman Buono Quindi ragazzi Andiamo con il prossimo Laggio di giornata Colpo di testa Rete Numero 3 Eccolo qui Metti a fuoco Merda Metti a fuoco Metti a fuoco Nel numero 3 1 2 3 No punizione dagli iscritti Mettimi a fuoco Quindi ora ragazzi Scrivetemi sotto con un commento Una punizione Che dovremo andare a fare Nel prossimo episodio Quella che avrà più Mi piace L'andrò a fare Andiamo con il prossimo Lancio incredibile Colpo di testa Numero 4 Numero 4 Che è 1 2 3 Acquista il primo giocatore Quindi il primo giocatore Dobbiamo andare a mettere Serie A Primo giocatore Cerchiamo Fa che sia un giocatore buono Un bronzone Vediamo Moretti Ma Moretti in teoria Ce l'abbiamo già Vediamo se l'abbiamo già Moretti Si ce l'abbiamo già Moretti Quindi non ha neanche senso Andare a prendere Ora ragazzi Faremo un lancio Quindi un'altra casella Aspetteremo Che il mercato Vada un po' avanti Se no Prendiamo uno di quei giocatori Che avete già visto E appunto Rifaremo la casella dopo Quindi ragazzi Andiamo con il prossimo lancio Terzo lancio Mi batte addosso Ancora il 3 Ma non ci posso credere Guardate Cioè Non tiro il suo così 3 3 Sempre il 3 Perché il 3 Comunque il numero 3 È 1 2 3 Acquista Un If Vediamo se c'è un bel terzino sinistro If Perché abbiamo ancora il bronzone La Vediamo 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 Saria Terzino sinistro Speciale Vediamo se magari c'è qualcuno Io non mi ricordo nessuno Anzi ok C'è Gulam Gulam che è terzino Quindi andiamo a prenderci Un Gulam Hamd Come direbbe Fius Quindi ragazzi Abbiamo preso Gulam 81 Trezino sinistro Che è il sif Questo Altrimenti L'if Sarebbe costando troppo poco E andiamo a metterlo Al posto di Costa Quindi Altro if In squadra Dunque ora ragazzi Non faremo il lancio Andremo a vedere Chi è il Primo giocatore Quindi alzeriamo tutto qui Andiamo a mettere Serie A Triangolo Vediamo 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 Dai Ok Insigne Insigne S Solo che Abbiamo già Buonaventura Ma comunque lo compriamo Così per metterlo Anzi ce l'abbiamo già in squadra Della verità Come potremmo fare Vabbè andiamo a metterlo Lo stesso come centrocampista Anche se è un AS Quindi Compriamo Insigne Però ora che ci penso bene Potremmo mettere Buonaventura Come centrocampista centrale Se momentaneamente c'è Insigne Quello lì Non upgrade E Insigne vero Lo mettiamo AS Perché comunque Buonaventura Fino all'anno scorso Giocava centrocampista Quindi Mettiamolo centrocampista Così Intanto l'intesa resta Uguale Dove ragazzi Andiamo con il quinto L'ho di giornata Vai Buttiamola per terra Numero due Numero due Numero due Eccolo qui Il due Che è Uno due Per tre Pack bronzo E vai La casella Utilissima In questo monopoli C'è uscita Anche quest'oggi Dunque Andiamo raga Con il tre Pack Da 750 Crediti Vai 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 Bella Skippando Perfetto Vai con il prossimo Let's go let's go let's go Vediamo Niente Bellissimo Indio Abbiamo trovato Con il prossimo Ultimo pack Vai vai Skippa Grandison Grandi Grandi Grandison Grandison Dunque ragazzi Sesto lancio Di giornata Nonché l'ultimo Di questo Stage Andiamo Numero Cinque Numero Cinque Eccolo Qui Il cinque Che è Uno Due Tre Quattro Cinque Pack Roulette Ok Non c'era mai Uscito Nel fifa In questo stage Quindi vai con il pack Roulette Dunque ragazzi Abbiamo qui la ruota Del pack Roulette Cercherò di tenerla in mano Anche perché Vabbè La faccio girare Ragazzi Come potete vedere Qui ad esempio C'è il numero Uno Poi c'è il Due Tre Quattro Cinque Mentre Gli altri Sono Obiettivi Sono Cose che non Centrano Che ho scritto Un panel Food Rattur Roulette Che feci Tempo Devo Fa Quindi Se ci usciranno Altre cose Che non siano numeri Ovviamente Taglierò Quella parte Non la farò Vedere Quindi Vai con il primo Giro di roulette Vediamo 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 4 Quindi il numero 4 Su cinque pacchetti Ragazzi Dovremmo Scartarne 3 E quindi Il numero 4 Dovremmo Andarlo A scartare Andiamo Con il secondo Giro Vai 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 Numero Due Quindi il 4 E il 2 Da scartare Vai con il prossimo Andiamo 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 Il 3 Quindi 2 3 E 4 Dovremmo Scartarne E tenere Il primo E il secondo Quindi ragazzi Andiamo Apri I pacchetti 7500 Il primo Ricordo Che dobbiamo Tenercelo Ti prego Ia Fammi trovare Qualcuno Di forte Ok Abbiamo trovato Fuse Ce lo teniamo Ma io lo scarto Perché Non mi serve Momentaneamente Vai Eccolo il secondo Questo qui Ragazzi Dobbiamo Scartarlo 234 Ricordo Che dobbiamo Scartare Vediamo Non fammi trovare Nessuno Ti prego Difessore Centrale No Non ci credo Non ci credo Che mi fa trovare Godin Su questo Quanto cazzo Costa Spero Non costi Tanto 5.000 Crediti Ma va Fammocca Mamd E questo Quanto Costa Mamma mia La faccia Da drogato Questo Ecco Altri 1000 Crediti Quindi In tutto 6000 Crediti Buttati Al cesso Questo pacchetto C'era anche una forma Fisica Più 3 Anche nella tena di coca cola Ma comunque Scartiamo tutto Tanto Ovviamente Si doveva uscire Quando dobbiamo scartare Anche quest'altro Ragazzi Dobbiamo scartarlo Che è il terzo Dai 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 Nulla Ti prego Grazie Klaise Abbiamo trovato Klaise Poi Silva Niente Niente Sono stati anche fortunati In questa Terza divisa Del Tottenham Che è bella Tutta viola Ma purtroppo Dobbiamo Scartarla Ok Scartato Andiamo con L'ultimo Che dobbiamo Scartare E poi il prossimo Dobbiamo tenercelo Termo Mi affido a te Fai che lì Non ci faccia trovare Un cazzo In questo pacchetto Grazie Ci faccio trovare Passo al casser Che comunque Non vale un cavolo Ma un'altra forma Fisica Più 30 Ma Va bene Non importa Mentre questo Ragazzi Ultimo Pacchetto Dobbiamo Tenercelo Dai che ce lo teniamo Dai che ce lo teniamo Aguero Ti prego Fammi trovare Qualcuno Fammi trovare Qualcuno Aguero E se Che merda Bering Hong Quindi ragazzi Questo video Finisce qui Spero vi sia piaciuto Un bel like Ragazzi Arriviamo a 200 Mi piace Se volete vedere Il prossimo Episodio Nonché Il primo Episodio Del quinto stage Se non sbaglio Come state ragazzi Passate da Diego Magli Il link di sconso Con il codice Avete 5 euro Sconto sull'acquisto Passate anche da FIFA Poins Market E con il codice Avete 5% Sconto sull'acquisto Facebook Twitter E Instagram In descrizione Iscrivetevi al canale Se non ho ancora fatto Che dire ragazzi Qui da Realizzate tutto Inoltre ragazzi Se volete qui stare Completini da calcio Passate da Diego Magli Il link in descrizione E con il codice Laza Avete 5 euro Di sconto Su ogni acquisto Di sconto sull'acquisto Di sconto sull'acquisto Grazie a tutti.